Si arriva però ad un certo momento per cui si decide ovviamente insieme allo specialista di procedere o comunque di raccomandare al paziente la nutrizione interale. Ci racconti tu com'è questo processo, quali sono le indicazioni, quello che fa scattare questa soglia per cui diventa l'unico intervento possibile? Sì, ovviamente come dicevamo il primo movens è appunto il fatto di avere la consapevolezza che la nutrizione non è più sicura, quindi alimentarsi per bocca non è più sicuro. Che cos'è la nutrizione artificiale? La nutrizione artificiale è una tecnica, la nutrizione enterale scusate, è una tecnica di nutrizione artificiale che ha indicazione quando. Quindi questi due termini non si equivalgono, enterale e artificiale? No, la nutrizione enterale è una forma di nutrizione artificiale e significa che la nutrizione, in questo caso artificiale, viene somministrata nel tratto gastroenterico, da qui il termine enterale. Ed è per questo che rappresenta la più fisiologica delle forme di nutrizione artificiale o di terapia nutrizionale, se vogliamo dire così, perché di fatto è una terapia. Dicevo, le indicazioni della nutrizione enterale sono appunto o la nutrizione orale controindicata, perché non è più sicura, o non è sufficiente a coprire il fabbisogno, oppure non è possibile attuarla. Quindi in tutte e tre questi casi che vanno tutti valutati allo stesso modo e in questo caso voglio sottolineare l'alimentazione insufficiente, perché ovviamente quando l'alimentazione orale è controindicata c'è poco da discutere, no? Non puoi mangiare per bocca, allora si deve trovare una soluzione. La cosa più difficile è invece valutare quando la nutrizione enterale serve, se l'alimentazione orale è insufficiente. Insufficiente quando? Insufficiente quanto? Quanto poco devo mangiare perché la nutrizione enterale sia adeguata, sia indicata e quindi io mi devo attrezzare per poterla fare e questo è un argomento molto specialistico che va affrontato con persone che ne hanno le capacità, persone in centri che hanno tutte le specialità, dove c'è un endoscopista bravo, dove c'è la logopedista brava, dove c'è un radiologo bravo, dove c'è il dietologo, il nutrizionista, il dietista bravo, perché è un momento molto delicato, perché la raccomandazione di iniziare la nutrizione artificiale, soprattutto se non è una cosa transitoria per una complicanza del momento, significa che io devo avere un accesso enterale, solitamente l'accesso enterale può essere o il sondino nasogastrico oppure la sonda gastrostomica che può essere la PEG, l'abbreviazione della PEG vuol dire una gastrostomia posizionata per via endoscopica oppure una gastrostomia chirurgica. Questo di fatto è un momento molto delicato, perché viene percepito dalle famiglie come un fallimento della capacità di nutrire il proprio figlio adeguatamente, sufficientemente, oppure un peggioramento della storia clinica di quel bambino. In realtà si tratta, non bisogna cedere diciamo a questa sensazione che è lecito avere, ma bisogna cercare di pensare questo come un aiuto, come un atto terapeutico che offriamo al bambino, così come si usano diversi altri presidi che cercano di aiutare il bambino, anche questo rappresenta un aiuto. Anche perché è vero che è una decisione molto sofferta nei genitori, l'abbiamo visto anche nei racconti di una mamma, ma è anche vero che poi i racconti di questi stessi genitori in una fase successiva rispetto all'intervento sono racconti di grande soddisfazione, non tanto per la gestione familiare che insomma diventa comunque più serena e tutto, ma per questi bambini che si vedono rifiorire, cioè che recuperano quell'equilibrio che invece prima pativano, ecco. Esattamente dicevo proprio questo, cioè dobbiamo cercare di far prevalere tra i sentimenti che è normale umano avere, quello di volerlo aiutare questo bambino e aiutarsi a migliorare la qualità di vita. La decisione su questo spetta ai genitori, quindi sempre in caso di minori? La decisione ovviamente è un atto che sottostà al consenso informato, quindi il genitore adeguatamente informato da uno professionista che è in grado di spiegare tutto deve ovviamente esprimere il proprio consenso, altrimenti è un po' difficile. Infatti mi metto anche nei vostri panni, no? Perché magari siete in grado di vedere delle situazioni che mettono a rischio anche la vita del bambino. In quel caso voi potete intervenire come specialisti o comunque rimane sotto la responsabilità del caregiver? Ma questo poi è un aspetto, diciamo, etico che non è semplice affrontare in una chiacchierata di questo tipo. Io penso che invece, tornando diciamo a questioni un po' più da vita quotidiana, perché quello che citavi è un caso per fortuna raro. Io penso che spesso la decisione di posizionare l'apego o di iniziare la nutrizione interale, anche attraverso un sondino, viene rifiutata proprio perché non c'è sufficiente informazione. Per questo dico, è opportuno per me parlarne, parlare di tutti gli aspetti, perché ci si mette poi di fronte anche a una relazione di più fiducia con l'operatore. Esatto. Io direi che ormai sono più di vent'anni che lavoro in questo campo e sono convinta che la percezione negativa che si ha è un rettaggio del passato. quando, diciamo, l'apego si posizionava quando non si sapeva più cosa fare e questo era veramente un gesto, come dire, ultimo. Però non è più così. Noi adesso sappiamo tante cose, anche solo chi ha seguito questa intervista può dire di sapere che la malnutrizione è deleteria e noi questo non lo possiamo dimenticare. Così come sappiamo quando un bambino ha un'infezione grave, non speriamo che se la cavi con le proprie forze, ma gli somministriamo un antibiotico, sia pure, per via endovenosa, sia pure, voglio dire, se questo richiede un qualche intervento. Ed è la stessa cosa. Se io non riesco a nutrirmi, non ho le forze di combattere, non ho le forze di fare riabilitazione e sarò sempre più debole. Allora è inutile che si arrivi all'ultimo momento in cui, da come dicono gli studi, hanno documentato e testimoniato, i risultati poi della nutrizione interale o del posizionamento della PEG sono veramente incerti, perché non è sbagliato il momento. Anche perché Antonella è un tipo di intervento che ormai facciamo da tantissimi anni, per cui abbiamo accumulato molta storia rispetto alla vita di questi pazienti, alle loro condizioni, quindi sappiamo quando è meglio intervenire, se in una fase precoce o… Diciamo che nella grande maggioranza dei casi si posiziona la PEG per via endoscopica, ok? Ed è una delle tecniche più collaudate al mondo. È vero che è un intervento, perché è un piccolo intervento e quindi non è privo di rischi e questi vanno spiegati bene. Ma noi abbiamo non soltanto i dati della letteratura, ma i dati del nostro registro italiano, della SIGEM, di nutrizione artificiale domiciliare, che ci dice che le complicanze della nutrizione enterale del posizionamento della PEG sono veramente poche, sono inferiori, quelle maggiori sono inferiori al 5% e tra questi la maggior parte, adesso non voglio dare troppi tecnicismi, ma la maggior parte, più del 3,5%, sono dovuti alla cattiva gestione, non al posizionamento. Quindi se noi diventiamo bravi a dare l'indicazione, bravi a gestire la nutrizione enterale, avremo sempre meno di queste complicanze. E dico ancora una cosa, che la PEG non è il posizionamento della PEG, l'inizio della nutrizione enterale, non è mai un gesto, come dire, ultimo, un gesto disperato, e un atto terapeutico che va gestito e va prescritto dal medico, che noi posizioniamo anche in altri pazienti, non soltanto in pazienti neurodisabili, in pazienti che addirittura non sono disfagici, come per esempio bambini affetti da fibrosi cistica, che hanno un fabbisogno molto maggiore rispetto ai coetanei non affetti da patologia, e che quindi non ce la fanno. Ricordiamo anche Antonella che è un intervento reversibile, per cui stiamo parlando di qualcosa da cui non si può tornare indietro, nel caso qualcuno poi acquisisca quelle competenze o cambi lo stato di salute. Esatto, l'ultima cosa che volevo dire per convincerli, tra virgolette, è che se si inizia precocemente la PEG si può anche rimuovere, e il bambino si può svezzare e tornare a mangiare per bocca. Quando dici precocemente c'è un riferimento anche all'età proprio anagrafica, voi avete storia di bambini in cui avete iniziato a, non so, un anno? Allora, non c'è limite all'età. Il limite inferiore non… No, non c'è, né limite inferiore né limite di peso. Questo è stabilito anche dalle ultime linee guida proprio sulla gastrostomia endoscopica percutanea alla PEG. Ovviamente dipende, questa è una decisione, è una decisione sartoriale sul paziente. Non è un'indicazione che può essere data per tutti. Non che tutti devono avere entro l'anno la PEG, assolutamente no. No, no, però ecco, sapere che comunque esistono delle procedure per applicarla anche nei neonati. Non c'è, esatto, sì. Però ovviamente deve essere un'indicazione soppesata e fatta bene. Senti, io parlerei un po' adesso dei tipi di somministrazione della nutrizione interale. Ci racconti qualcosa su questo e sui benefici poi anche? Sì, si può spaziare in un numero abbastanza ampio di tipologie di infusione. Esiste la possibilità di infondere in modo intermittente, quindi a pasti, tipicamente così fanno i bambini molto piccoli, così come sono i pasti, diciamo, le popate, il latte materno, ecco, possono mimare questa tipologia qua. Si può fare invece, per favorire, soprattutto quando c'è un'alimentazione orale conservata e si ha il desiderio di mantenerlo, si può fare una nutrizione interale notturna o con qualche bolo diurno oppure anche senza, di giorno si mangia gli alimenti normali, naturali. Quindi si può mantenere l'alimentazione mista in questa? Certamente, certamente. E quando invece, soprattutto, quando abbiamo bisogno di una riabilitazione buona della funzione orale e di riprendere l'alimentazione per bocca, facciamo molto meglio se abbiamo una PEG rispetto al sondino, no? Per ovvi motivi, direi. Nel momento in cui la PEG si dovesse rimuovere, è sufficiente sfilarla e la cute si chiude da sempre. Non è nemmeno, tanto è vero che noi diciamo ai pazienti, quando li mandiamo a casa con la PEG e con la nutrizione interale, diciamo, attenzione, se il palloncino si sgonfia o se la sonda si sfila, cerchiamo di riposizionarlo oppure correte subito in pronto soccorso o al servizio di dietologia perché venga sostituito, perché può chiudersi velocemente. Quindi direi che dobbiamo essere intelligenti nell'usare questa modalità di terapia nutrizionale. Non ci sono, diciamo, vincoli che non possono essere superati, né nella modalità di infusione, né nel contesto o luogo. Si può infondere in casa, si può infondere fuori casa, si può fare di notte, di giorno, prima dei pasti, dopo i pasti, con la siringa, con la pompa, tutto come si vuole. Ci sono veramente tante possibilità e di questo davvero dobbiamo essere grati anche all'industria che ci corre dietro con ogni tipo di proposta, così come gli zainetti che contengono le pompe e ci permettono di fare l'alimentazione anche fuori casa o le siringhe. Insomma, i modi sono tanti. Bisogna solo comunicare bene le proprie esigenze al medico che ci segue e costruire insieme a lui qualche cosa che vada bene, si adatti bene alla vita del bambino e della famiglia. Questi sono bambini che spesso prendono anche terapie farmacologiche. Vanno somministrate anche queste terapie attraverso la sonda o sono accorgimenti particolari? Allora, la possibilità c'è. Anzi, qualche volta si utilizza proprio la PEG o per dare l'acqua, per esempio, quando non riusciamo a dare tutta l'acqua che si vuole, mentre gli alimenti riusciamo a mangiarli, oppure per somministrare gli alimenti. Per esempio, si ripristina l'alimentazione orale e mi alimento, ma i farmaci non riesco a darli al bambino e allora li somministro per la PEG e quindi anche se non mi serve più non la tolgo perché utilizzo i farmaci con facilità, senza che debba il bambino fare lo sforzo di deglutirli o accettare il sapore non gradevole. Ci sono degli accorgimenti di somministrazione dei farmaci e degli alimenti, ma questo è da declinare in funzione del singolo farmaco ed è il medico che prescrive il farmaco, che deve dire lontano dal pasto, insieme al pasto, oppure come deve essere. Un tema che vedo emerge spesso nei focus group, quelli che erano i focus group e che adesso sono diventate le community social, è l'alimentazione naturale somministrata per sonda, quindi la possibilità di preparare qualcosa a casa e di integrarlo rispetto agli alimenti che invece ci vengono forniti per la nutrizione interale. Non so, io ci vedo dietro una voglia, anche questa mi sembra assolutamente lecita, a parte il genitore di recuperare poi quel valore che è nel genitore che alimenta il proprio figlio, nel trasmettere anche i sapori, no? Quindi questa voglia di far provare qualcosa e di mantenere anche, se vuoi, la socialità nel momento del pasto in famiglia. Quindi dici tu cosa è giusto fare, cosa non è giusto fare dal punto di vista invece scientifico. Allora, questo è un altro argomento molto delicato, dove, come dici, l'opinione pubblica ma anche quella scientifica è diventata molto più interessata i primi e prolifica i secondi per produrre tutte le risposte che vengono chieste. Io dico, per non essere, tra virgolette, vittime delle mode alimentari, di cui ormai ne sappiamo qualcosa, bisogna conoscere molto bene la materia, ok? Ricordo che somministrare alimenti frullati nelle sonde è stata la primissima modalità. La nutrizione interale è nata così, somministrando del latte attraverso la sonda. E noi sappiamo benissimo quale vantaggio invece sono state le miscele interali, quelle formulate, quelle classicamente intese, diciamo così. Io lo ricordo quante poche miscele interali avevamo quando io ho iniziato a lavorare. Tipo c'erano tre varietà? Due varietà, quindi dolce e salato? No, no, solo neutro, niente scelta. Invece adesso abbiamo molta scelta. Molta scelta non soltanto in termini di ipercalorica, ipocalorica, ma possiamo scegliere il tipo di proteina che vogliamo, il tipo di miscela che vogliamo, per quella patologia formulata appositamente, ma addirittura solo aminoacidi singoli per il bambino allergico, per il bambino intollerante, per quello che ha mille esigenze. E quindi questo è veramente una ricchezza. Per cui se non siamo, diciamo, più nell'epoca in cui è stata inventata la nutrizione interale, la somministrazione di alimenti naturali per sonda dovrebbe sottostare alle stesse regole e criteri ai quali stanno le miscele interali. Quindi quanti benefici, quali outcome riescono a soddisfare e perché li devo usare. Perché se io, diciamo, vado con delle convinzioni e faccio un atto di fede, non un atto di scientifico, allora questo non è qualche cosa che ha un denominatore comune con quello che stiamo dicendo questa sera. Con ciò non voglio, diciamo, minimizzare perché il ruolo, tutto questo fermento è nato non senza motivo. Le miscele interali da un lato non sono poi artificiali, sono formule a base di latte, latte vaccino, arricchite con tutti, come abbiamo detto, macro e micronutrienti proprio per formulare i fabbisogni del bambino. E specifichiamo anche che nel caso del paziente, dei pazienti di cui parliamo noi, vengono date gratuitamente, quindi la famiglia non paga nulla per questo tipo di alimento. No, e questo è un altro elemento che lascerei anche per ultimo, perché quando si vuole, diciamo, il bene del proprio figlio, magari l'aspetto economico può anche essere supportato. Esattamente, però nel senso non è un tipo di alimentazione che richiede un esborso in più da parte della famiglia, per cui preferisco magari il fatto in casa perché mi costa meno. No, 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 assolutamente questo non è il motivo. Diciamo che le miscele interali classicamente intese offrono la fonte da proteine animali, perché la fonte è il latte. Gli alimenti naturali possono avere fonti proteiche anche vegetali e possono avere quei gusti e sapori che invece non ci sono nelle miscele enterali classicamente dette, che come ho detto hanno gusto neutro. Questi gusti e sapori possono andare a sollecitare i recettori olfattivi, quelli dell'odore, che non sono soltanto nel naso, come possiamo pensare, ma sono distribuiti ovunque nel tratto gastroenterico e sono addirittura più popolosi rispetto ai recettori del gusto. Stimolando questi si può promuovere un po' la motilità del tratto gastroenterico in qualche caso. Di fatto queste esperienze nascono dai bambini con scarsissima tolleranza alla nutrizione interale, dove si è cercato ogni tipo di soluzione. Nascono proprio da lì. Dopodiché, questa è una speculazione, si chiama in termini scientifici, nel senso che noi sappiamo che i recettori fanno questo, ma nessuno ha dimostrato che di fatto succede questo e come questo avviene. Possiamo ipotizzare che succeda per questo motivo qua e possiamo ipotizzare anche che noi sappiamo ci sono anche recettori del gusto anche nello stomaco e non soltanto in bocca. Quindi, qualche cosa che io ricevo anche nello stomaco, quella sensazione di gusto diverso o se non altro di gusto vario può darmi dei benefici. Quindi ci sono delle cose che… Ed è per questo che sono state concepite alcune miscele enterali preparate dall'industria con alimenti naturali, a base di alimenti naturali, che insieme ai benefici dell'alimento frullato ci danno anche la composizione nota e la composizione utile… Anche dal punto di vista delle calorie, delle proteine, dei grassi, del carburante… Quindi non rischio di integrare con qualcosa di cui non conosco esattamente. Ma il mio tema invece era più un tema legato alla sicurezza alimentare, alla paura di inserire per sonda dei contaminanti, di attivare delle infezioni, ma non so, forse perché prendendoli da un ambiente meno sterile. Ma questa era una paura tutta mia che non conosco questo mondo. Questo ovviamente è vero, nel senso che le miscele enterali sono sterili, mentre le altre possono essere contaminate, possono essere fonte di… E cambia qualcosa se inserisco qualcosa di contaminato direttamente allo stomaco rispetto a fargli fare tutto il tragitto dalla bocca? Sì, nel senso che la saliva che c'è in bocca ha anche delle capacità antisettiche che combattono ovviamente non cariche microbiche incontrastabili. Questo no, si parla sempre di cut off, di livelli che possono essere superati o no. Ma al di là di questo, ci sono due caratteristiche anche degli alimenti naturali che dobbiamo ricordare. prima che sono di consistenza tendenzialmente più viscosa rispetto a quello di una miscela enterale, no? E questo rende più difficoltoso il passaggio nella sonda. Quindi devono essere diluite tanto. Se sono diluite tanto, diventano ipocaloriche. Ok? L'altra cosa è che non so, anche se è nota la composizione degli alimenti che uso, io non sarò mai sicura della composizione di quell'alimento, perché la carne del macellaio sotto casa ha una composizione, quella del allevamento intensivo ne ha un'altra, se lo compro al supermercato diventa diversa. Insomma, l'alimentazione naturale è così, non è fatta di cose precise, cosa che invece le miscele enterali lo sono. Ora, va tutto bene quando si è, diciamo, soggetti normali senza fragilità. Quando invece si è pazienti malnutriti, pazienti con mille fragilità e difficoltà, io ci penserei molto bene a buttarmi nel campo dell'incertezza. però noi sfruttiamo, vogliamo sfruttare, e questo fa parte anche del nostro bagaglio di conoscenze ormai, i dati positivi, gli elementi positivi che sono quelli che ho citato prima, degli alimenti naturali. Quindi questo non è che lo vogliamo ignorare. va messo nel comune sapere e va utilizzato con sapienza. Anche perché può essere di stimolo per tutto il mondo dell'innovazione, della ricerca, che riguarda anche appunto lo sviluppo di nuove formulazioni, di nuove ricette, quindi è utile anche per quello. Allora, Antonella, io credo che abbiamo raggiunto il record di intervista, perché non ti ho fatto bere, non ti ho fatto respirare neanche, di lunghezza di intervista su Fight the Virus, però mi faceva piacere... Spero che sia stato interessante. No, assolutamente utile, io continuerei ad ascoltarti. No, mi faceva piacere chiudere con qualche tua indicazione pratica o raccomandazione su quella che è la vita quotidiana delle persone, delle famiglie. Quindi questi sono bambini che frequentano scuole, frequentano attività e riabilitazioni, sportive, sport adattati. Com'è la gestione della nutrizione interale e se c'è qualcosa che possiamo fare anche noi, no? Tu ci raccontavi in passato anche di momenti di formazione con le insegnanti nelle scuole. Quindi se vogliamo chiudere con queste raccomandazioni. Beh, abbiamo fatto grandi passi avanti anche in questo, come dicevamo prima, grazie anche agli strumenti che possiamo usare. A cappello di tutto ciò sta il fatto che ogni terapia viene fatta per regalare possibilmente al destinatario della terapia la migliore qualità di vita possibile, altrimenti, diciamo, non avrebbe molto senso. Tutte le procedure, anche il semplice fatto di inviare, tra virgolette, al domicilio questa terapia, ha questa finalità come prima, cioè di reinserire il bambino nel nucleo familiare, nella vita sociale, eccetera. Ma bisogna essere anche aperti alla vita sociale, alla scuola, alle vacanze, a tutto quanto. Tutte le persone, e sono sempre più, perché ci sono gli aiuti sul territorio, ci sono i nuclei di assistenza domiciliare, ci sono le insegnanti di supporto, che possono essere nostri alleati nel fare questo. Nella nostra regione c'è un provider per la consegna a domicilio dei materiali, e questo provider, sì, fa parte della gara di capitolato, consegnerebbe i materiali anche su luoghi di vacanza su tutto il territorio nazionale. Questo ovviamente... Anche perché sono abbastanza ingombranti, diciamo, come se uno deve partire per un mese di vacanze, si dovrebbe portare dietro scotte. Certo, ma poi bisogna garantire la temperatura, farli viaggiare a temperatura corretta e quant'altro. Quindi esiste anche questa possibilità. Come ho detto, esiste la possibilità di... Noi siamo a disposizione a, diciamo, insegnare o ad addestrare. Ecco, oltre ai genitori anche altre persone che possono prendersi cura del bambino. Prima di mandarli a casa tutti i nostri caregiver, chiamiamoli così, senza escludere né zie né nonni né chiunque volesse essere, diciamo, parte del team, un addestramento. Quindi sapere esattamente cosa bisogna fare. andare a casa già consapevoli di quello che è il... Oltre a dare poi ovviamente la disponibilità della nostra referenza. Esiste però anche un manuale del paziente in nutrizione interale che fornisce notizie proprio... Pratiche. tecniche ben fatte che si trova e si può scaricare gratuitamente dal sito, dal home page della nostra società, della SIGEMP. Nella home page di SIGEMP www.sigem.org si va nella prima pagina e c'è un posto che si chiama giorno dopo giorno e lì dentro c'è il manuale di nutrizione interale addirittura tradotto anche in cinese e in arabo oltre che in italiano. E lì ci sono... è molto ben fatto, è stato reso diciamo anche molto attrattivo dal punto di vista dell'editoria con l'aiuto della nutricia e per cui può essere veramente una lettura esatto bene a indicarcelo perché poi magari lo lasciamo anche iscritto su questo video che poi sarà distribuito online sarà su YouTube per cui sarà accessibile a tutte le famiglie. Penso che gli altri lo conoscano tutto e tutti ma anche le famiglie lo possono scaricare gratuitamente non è necessario essere soci e proprio sulla prima pagina senza registrazione. Va benissimo Antonella io ti ringrazio perché è stato l'inizio di un viaggio ti direi che mi è venuta fame a quest'ora a forza di parlare di alimentazione e sappiamo appunto dicevo che è l'inizio di un viaggio perché poi ci accompagnerai anche nella descrizione sul nostro sito web di alcune FAQ di alcune domande più specifiche alle quali risponderai in modo che siano assolutamente accessibili poi per tutti anche per chi vuole maggiori approfondimenti. grazie ancora davvero grazie a voi grazie del del pensiero e del lavoro che fate che è veramente prezioso alla prossima allora grazie ciao 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 ciao